Avanti, avanti! Vieni qui! Peccatrice! Giù! Ferma! Lapidiamola! Adultala! A morte! Che ti sia di lezione! La legge ci comanda... di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Ti metti alla prova. La legge ci ha fatto! Cosa c'è? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.